Si avvicina la scadenza della settima edizione di Arte di Parole, premio letterario nazionale dedicato agli studenti delle scuole di secondo grado. Entro il 4 marzo prossimo, infatti, i testi dovranno pervenire all'indirizzo artediparole.it. Il tema di quest'anno è ricordi. La giuria sta scaldando i motori ed è ansiosa di leggere i racconti e con un gioco di parole ricordatevi di inviare i racconti sul tema ricordi. Dal giorno successivo la Commissione inizia a leggere con curiosità e con grasso interesse rispetto a capire come i giovani, gli studenti, gli adolescenti interpretano questa parola, questo tema e selezionare i 12 finalisti. Confermata la sede della cerimonia di premiazione, fissata per sabato 5 maggio nel Salone Consiliare di Palazzo Comunale a Prato, il concorso è incluso nel programma annuale 2017-2018 del MIUR per la valorizzazione delle eccellenze e i finalisti saranno menzionati nell'albo appositamente creato dal Ministero. La forma del racconto breve è una forma impegnativa per i ragazzi, ma sempre hanno dato prova di maturità, di saper rispondere sempre nella maniera migliore a questo premio. Il premio letterario, insieme al Salotto Gianni Conti, è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e patrocinato da Provincia e Comune di Prato, testimonial di questa edizione il cantante Piero Pelù. È un grande invito che faccio come docente del, ovviamente, Gramsci Cainz, come appartenente al Salotto Letterario Gianni Conti, di inviare quanto prodotto e di raccontare emozioni, esperienze di vita reali, immaginate, in modo che siano condivise, in modo che siano pubblicate.